Una testimonianza l'ennesima che l'eccellenza non è questione di geografia e che il rapporto tra sport e risultati è solo. Sembra facile a dirlo, molto più difficile a realizzarlo il frutto di passione, impegno ed entusiasmo. Lo dimostra ancora una volta il centro Equitation La Contea che, come vedete nelle immagini, sta recitando un ruolo da assoluto protagonista con i suoi allievi alle finali nazionali del progetto Sport che uniscono tutte le regioni d'Italia all'Orses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano. L'iniziativa targata FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, vede infatti Gaetano Migliore impegnato nelle categorie 90 con poni 100 e 110 a cavallo. Un trittico impressionante visto che lo stesso Migliore ha dominato la selezione siciliana per accedere direttamente alle finalissime nazionali. Una grandissima soddisfazione per il Cavaliere della Scuola Modicana che fa il paio con l'affermazione di Sofia Rizza, regina nella categoria junior a livello regionale per 80 e 90, un unicum visto che solitamente si riesce ad entrare in una sola categoria. I giovani cavalieri della Scuola Modicana saranno impegnati nelle gare fino a domani contro i colleghi provenienti da tutte le altre regioni e con la possibilità ancora una volta di far sventolare con orgoglio il vessillo della Scuola Modicana su tutto il territorio nazionale, un modo per ribadire la grande forza, competenze e qualità degli istruttori della società modicana che vive da protagonista il mondo dell'equitazione.